Volevo spostare la barra delle applicazioni su Windows 11 a sinistra Come vedete infatti Windows 11 vi mette di default in maniera predefinita il luogo di Windows al centro Vedete vero? Invece lo voglio avere a sinistra qui quindi Come fare tutto questo è molto semplice Basta infatti andare a cliccare in un punto volo della barra delle applicazioni con il destro del mouse Impostazione barra delle applicazioni Nel mio caso si chiama Taskbar Settings Ci clicco solo Come ho fatto ora? Dato qualche istante al vostro Windows di caricarsi Dopodiché scendo con il mouse E vado semplicemente a cliccare nella scritta comportamenti barra delle applicazioni Che è questo qua Nel mio caso si chiama Taskbar Behavours perché ho la versione inglese di Windows 11 Ci clicco sopra Adesso a questo punto Allinamento barra delle applicazioni C'è scritto centro Bene Mettiamo a sinistra Left Basta Ho risolto Ho già fatto Semplice Chiudo il punto E vedo che è la mia barra delle applicazioni che sta a sinistra Con ovviamente tutte le icone Non soltanto il logo di Windows Ma anche gli eventuali programmi aperti Quindi nel mio caso Fonsino Firefox Debout Video Capture E tutti gli altri che magari potevo aprire Detto questo Tutto ciò Grazie a tutti utenti di YouTube Il video termina qua Un tutorial semplice e breve Per un tutorial veramente di grande